I misteri che si celano fra la nebbia della Londra vittoriana non si sono esauriti con Sherlock Holmes, consulente investigativo, i delitti del Tamigi e altri casi. Il popolare gioco basato sul detective fittizio più famoso al mondo ha già altri due capitoli e un quarto in lavorazione, oltre ovviamente al primo. Questa volta analizzo la scatola blu, quella dedicata a Cartoon House e Queen's Park. Si tratta di una nuova edizione rivista e curata da Asmodea Italia, che ci porta 10 nuovi casi più moltissimi nuove prop da usare durante le nostre partite. Ma di che cosa si tratta esattamente? Per chi non lo sapesse, Sherlock Holmes, consulente investigativo, è un gioco cooperativo di investigazione, pensato per un minimo di uno fino a un massimo di otto giocatori. La sua durata è, sulla carta, 60-90 minuti, ma non è fatto raro sforare i tempi previsti per alcuni dei casi più intricati. Esattamente come i delitti del Tamigi e altri casi, del quale ho già parlato in precedenza, anche Cartoon House e Queen's Park si presenta in una confezione davvero bellissima, solida, ben curata, che non sfigura in una libreria e che dal meglio di sé si è affiancata agli altri due tomi della serie Sherlock Holmes, consulente investigativo. Non mi stancherò mai di ripeterlo, i contenuti delle scatole di Sherlock Holmes, consulente investigativo, sono fantastici. La confezione, durevole e bella, contiene un sacco di materiale, persino di più rispetto a quello trovato nei delitti del Tamigi e altri casi. Beh, vediamo che cosa c'è all'interno di questa scatola in dettaglio. C'è il regolamento, sufficientemente snello per essere compreso, piuttosto velocemente. 10 casi divisi in altrettanti fascicoli da affrontare in ordine cronologico. Una busta con 12 indizi, una mappa di Londra con pinpoint specifici, un annuario con i nomi più importanti degli abitanti della città, 10 copie del Times, il giornale di Londra, le mappe di Cartoon House che ritraggono i tre livelli della casa, infine la mappa di Queen's Park. Sherlock Holmes, consulente investigativo, ha la stessa meccanica di gioco per tutte e tre le scatole disponibili, esattamente come il primissimo capitolo, anche questo è un gioco che deriva lontanamente dai libri game. Non esiste quindi un Dungeon Master, come nei giochi di ruolo, ma delle regole non sono neanche schematiche come i board games. Sherlock Holmes, consulente investigativo, è un gioco molto interpretativo, e per vincere dovremo solamente spremere le nostre meningi. A rispetto del titolo non andremo a interpretare il detective di Baker Street, bensì gli irregolari della medesima via. Chi sono? Beh, questi baldi aiutanti sono un gruppo di informatori e investigatori non ufficiali fedeli a Holmes e Watson, spesso essenziali per la risoluzione dei casi del celebre detective. Anche in Cartoon House e Queen's Park troveremo 10 fascicoli per altrettanti casi. Ogni caso si apre come una breve introduzione che spiega i fatti e ci lascia tutto il necessario per iniziare a battere le prime piste investigative. Inizieremo leggendo a tutti i giocatori o ai giocatrici la dovuta introduzione, dopodiché, a turno, dovremo decidere quale direzione intraprendere in quel di Londra o nella Cartoon House o in Queen's Park. Le piste e gli indizi possono essere reperiti tramite le copie del Times in nostro possesso, ma non solo. L'annuario e la mappa sono una fonte essenziale per trovare la giusta via e continuare così l'indagine. La grossa differenza rispetto alle altre scatole la fa a Cartoon House, una villa imponente disposta su tre livelli, seminterrato, piano terra e primo piano, che gli irregolari di Baker Street saranno chiamati ad esplorare per 5 casi su 10. Certo, l'esplorazione di Londra rimane comunque centrale, ma Cartoon House ha un fascino innegabile. Questa ambientazione aggiunge nuove opportunità di indagini, nuove piste e nuove possibilità. A stravolgere la meccanica ci pensa invece il caso, o per meglio dire i casi, di Queen's Park. Si tratta degli ultimi tre fascicoli, i quali sono parte di un unico grande caso che va affrontato in tre giorni diversi, giorno 1, giorno 2 e giorno 3. Anche Queen's Park ha una sua mappa specifica, della quale bisogna fare riferimento. Ogni fascicolo ha un suo arco temporale che parte alle 9 del mattino e arriva fino alle 22. Non potrete risolvere il caso a fine giornata, bensì tenere le vostre conclusioni e passare a quello successivo, fino a chiudere tutte e tre le giornate e finalmente dare la soluzione. Come avrete facilmente compreso, scopo finale di questo gioco è quello di risolvere il caso, cercando di prendere le piste giuste e necessarie, in modo da arrivare a rispondere alle domande che vi verranno poste alla fine di ogni fascicolo. Questioni come Chi ha ucciso Tizio? Cosa faceva Caio? E via dicendo dovranno trovare una risposta esatta nei nostri appunti. Ogni domanda con risposta corretta genererà un punteggio per la nostra indagine. Al termine della conta dovremo confrontare il numero di piste intraprese da noi con quelle scelte da Sherlock e rimuovere 5 punti dal nostro totale per ogni pista in più da noi seguita rispetto a quelle imboccate dal celebre detective. C'è da dirlo subito, il punteggio e le deduzioni di Sherlock sono davvero incredibili. Mi ritrovo però a consigliarvi di andare contro le condizioni di vittoria. Ebbene sì, il gioco vuole che impiegate meno piste possibile, ma è impossibile resistere al non perdersi per le vie fumose di Londra o per gli enormi corridoi di Carlton House. Cercate di risolvere i casi esplorando l'ambientazione, dando davvero poca importanza al confronto a punti. Le mie conclusioni su questo gioco non differiscono rispetto a quelle pubblicate per Sherlock Holmes, Consulente Investigativo, i delitti del Tamigi e altri casi. Anzi, questa volta serve per assurdo ancora più concentrazione, più focus e pazienza per godersi appieno questo gioiello ludico. Continuo quindi a sostenere che non sia un gioco per tutti, purtroppo. Per quanto il regolamento sia snello e accessibile, infatti, Sherlock Holmes, Consulente Investigativo e in particolare Carlton House e Queen's Park richiede una dose non indifferente di concentrazione calma. Due qualità difficili da trovare in un mondo popolato da smartphone e persone con deficit di attenzione. Altre stili faccio riflettere sul fatto che Sherlock Holmes, Consulente Investigativo, Carlton House e Queen's Park è un gioco che, una volta terminato, non potrete più giocare. Nonostante i casi vi terranno impegnati per decine di ore, non c'è modo di rigiocarli, a meno che non perdiate la memoria, senza sapere già le risposte a tutte le domande. Insomma, è un gioco davvero fantastico, con qualche piccolo limite che non lo rende però meno interessante. Vi ringrazio per essere stati con me per la durata di questa recensione, noi ci vedremo ancora molto presto per un altro video, questa volta su Jack lo Squartatore, la scatola rossa. Alla prossima! Alla prossima!